È stata presentata nella Galleria Harry Bertoia di Pordenone la mostra Pordenone-Montanari, assedio alla forma. L'esposizione, composta da oltre 110 opere, si struttura in una sezione ordinata cronologicamente e propone una sintesi del percorso di Pordenone-Montanari da fine anni 60 ad oggi. Assessore alla cultura Claudio Cataruzza, con questa mostra in programma in Galleria Bertoia, a Pordenone-Montanari, assedio alla forma, il comune di Pordenone ha una bellissima opportunità scoprire non solo un talento di casa ma scoprire per la prima volta un talento internazionale. Si, rientra un po' in quello che era il progetto di questo mandato amministrativo, cioè la valorizzazione, il concentrarsi sulla valorizzazione degli artisti che hanno caratterizzato il nostro territorio. Questa di Pordenone-Montanari è una chicca perché lui per vent'anni non ha avuto molto contatti con il mondo esterno, ha lavorato intensamente e qui si vedono i risultati. La prima grande antologia fatta su questo artista per cui stiamo già avendo degli ottimi riscontri non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, per cui ci auguriamo che questa sia una proposta che incontri un grande favore di critica di pubblico. E ora passiamo la parola a Fulvio Dell'Agnese, il curatore di questa bellissima mostra. Qual è la grande scoperta di questo talento, Pordenone-Montanari? È la scoperta di un artista estremamente rigoroso con se stesso che ha condotto per decenni una ricerca espressiva estremamente intensa, molto originale, che stranamente, nonostante il clamore che aveva destato la sua scoperta appunto qualche anno fa, non era stata ancora oggetto di una mostra articolata e abbastanza completa come speriamo di essere riusciti ad allestire.